Il cinema di Roman Polanski, regista, attore, sceneggiatore polacco, naturalizzato francese, pluripremiato agli Oscar a Cesare e Davide Donatello, autore di film cult della storia del cinema da Rosemary Baby a Chinatown, da Frantica e Oliver Twist, da Carnage al Venere in Pelliccia, da Il Pianista fino al suo recente L'Ufficiale e la Spia e al centro del nuovo libro firmato da Marco Luceri, critico e scrittore attivo da due decenni nel panorama culturale toscano, coordinatore del gruppo toscano del sindacato nazionale critici cinematografici italiani. Il libro si chiama Tenebre splendenti sul cinema di Roman Polanski, in uscita in questi giorni per ETS Edizioni Pisa. Abbiamo incontrato Marco Luceri al cinema alla Compagnia di Firenze per un viaggio nella cinematografia polanschiana nell'ambito delle attività culturali di Mediateca Toscana. Roman Polanski ha avuto un'infanzia difficile avendo vissuto il dramma delle persecuzioni razziali. La sua famiglia, ebrea, è stata quasi tutta sterminata nei campi di concentramento nazisti. Quanto ha influenzato questo dato biografico nel suo cinema? Quanto ha segnato questa esperienza? Tantissimo, nel senso che se c'è una cosa che non possiamo non vedere nel cinema di Polanski è la presenza del male. Il male che assume naturalmente tantissime forme può essere il male della storia, come abbiamo visto in alcuni film, come ad esempio il pianista, che sapete tutti ha vinto tantissimi Oscar, o l'ultimo, l'ufficiale, la spia, quindi c'è questo confronto molto serrato con la storia. Ma il male anche nella letteratura, l'adattamento che lui ha fatto di Oliver Twist, di Dickens, è veramente un viaggio di un bambino dentro l'inferno della modernità. Il male può assumere, come dire, delle connotazioni di genere, come accade in Chinatown, dove il finale svela una realtà raccapricciante, oppure Rosemary Baby, dove il diabolico entra nella vita di una coppia normalissima di new yorkesi e così via in tutto il suo cinema. Spesso i film di Roman Polanski si svolgono in luoghi chiusi asfittici, nei quali i personaggi vivono sentimenti, conflitti, drammi e orrori. Tanto che per alcuni film si parla della trilogia dell'appartamento. Cosa rappresentano queste ambientazioni? Te giustamente prima citavi la trilogia dell'appartamento, che è una trilogia di film girati dagli anni 60-70, che comprendono Repulsione, Rosemary Baby e l'inquinio del terzo piano, dove sostanzialmente il perturbante emerge come rapporto tra lo sguardo e lo spazio, cioè nel momento in cui i personaggi liberano il loro sguardo all'interno di questi spazi chiusi e questi spazi chiusi che sembravano degli spazi familiari diventano luoghi dell'orrore, diventano luoghi dell'incubo. Forse il film più radicale è proprio Repulsione, quando una giovanissima Catherine Deneuve si chiude, si rinchiude in questa casa e comincia a vedere le mura da cui escono delle braccia, un armadio da cui esce un misterioso uomo che la violenta, prima di compiere lei stessa un plurio omicidio. Ecco, questo però non si ferma alla trilogia dell'appartamento, ma si allarga un po' a tutto il cinema di Polanski, anche a film più, tra virgolette, leggeri come può essere l'innococchie, che credo sia uno dei titoli meno visti di Polanski, girato tra l'altro in Italia con Marcello Mastroianni, dove una misteriosa villa della costiera amalfitana si trasforma anche questa in una sorta di spazio mentale. Ecco, gli spazi del cinema di Polanski sono spazi mentali e il suo cinema, la sua macchina da presa cerca di restituire tutta la carica destabilizzante di questo sguardo. Io credo che tutti gli ambienti chiusi di Polanski non siano altro che una grande metafora della vita stessa, in cui noi ci avventuriamo credendo di avere delle certezze e poi scopriamo invece che queste certezze cadono una dopo l'altra e si aprono appunto le porte dell'incubo, del perturbante e direi della crisi stessa del nostro soggetto. Roman Polanski, pur essendo un attore che va a scavare nelle pieghe più profonde dell'animo umano, non ha mai perso di vista la dimensione più commerciale nella realizzazione dei suoi film. Come è riuscito a coniugare l'autorialità e il successo al box office? Questa è una delle cose più affascinanti del cinema di Polanski e mi sono molto divertito durante il libro proprio a far emergere questo elemento, perché come dicevi giustamente tu, Polanski ha fatto dei film straordinariamente moderni, per certi versi molto difficili, molto complessi, ma non ha mai rinunciato alla dimensione affabulatoria e commerciale dei propri film. Non è mai stato uno che si è chiuso in una torre d'avorio, ha cercato sempre il contatto con il pubblico e questo si vede soprattutto dai film che lui ha realizzato in America. Chinatown, per esempio, è il modello forse del film polanskiano, dove lui prende un genere, un genere molto in voga negli anni 70, che sta rinascendo sostanzialmente il noir, ma lo gira e lo rigira attraverso tutto un complesso sistema naturalmente di scelte poetiche e stilistiche e ne fa un film tragico, tragicissimo, dove però l'impatto diciamo della dimensione narrativa è comunque molto forte, è un equilibrio per certi versi tra autorialità e genere che in pochissimi sono riusciti a raggiungere nella storia del cinema. Penso per esempio ad Alfred Hitchcock, a John Ford, ma Polanski non ha nulla da invidiare a questi grandi maestri, forse non è stato un creatore di forme come loro, però in un certo senso questa ricerca costante dell'equilibrio, che poi è una delle grandi questioni che agitano da sempre la storia del cinema, in particolare quella del cinema americano, lui è riuscito a realizzare queste, ad avere questi risultati. Poi naturalmente a volte gli è andato anche male, penso all'insuccesso commerciale di Pirati, che è un straordinario film d'avventura negli anni 80 con Walter Mattau, che però non riesce ad avere il successo sperato. L'incontro con Marco Luceri in occasione dell'uscita del libro Tenebre e Spendenti è stata anche l'occasione per scoprire un'anticipazione su un progetto di prossima realizzazione di Roman Polanski. Posso darti una piccola anticipazione? Roman Polanski sta lavorando, sta iniziando, inizierà a breve a lavorare al suo nuovo film che si intitola The Palace ed è ambientato in un luogo chiuso, ancora una volta, stavolta un albergo durante una notte di Capodanno, ma ancora non ci sono altre notizie.